Un modo per avvicinarsi ai cittadini e per ascoltare le loro segnalazioni. Questo è l'obiettivo del nuovo servizio web fornito dall'AMIU di Bari e gli utenti foggiani. La municipalizzata del capologo regionale dallo scorso febbraio gestisce la raccolta dei rifiuti a Foggia dopo il fallimento di Amica. Sul sito amiubari.it è presente nell'home page un link dedicato all'unità operativa di Foggia che contiene diverse voci, servizio di spazzamento, di raccolta differenziata dei farmaci, di smaltimento degli elettrodomestici e la disinfestazione. I cittadini potranno anche inviare una segnalazione all'AMIU compilando un modulo scaricabile dal sito. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco di Foggia Gianni Mongeli e dal presidente di AMIU Gianfranco Grandaliano. Dopo aver dato un servizio di normalità, un'apparenza di normalità del servizio di igiene urbana, perché è sotto gli occhi di tutti, è necessario per l'azienda recuperare il rapporto col cittadino. La raccolta dei rifiuti a Foggia procede ormai senza problemi, hanno sottolineato Mongeli e Grandaliano. Il servizio dovrà compiere un ulteriore salto di qualità nei prossimi mesi, puntando sulla sperimentazione del porta a porta in un terzo della città e sul rafforzamento della differenziata. Il comune di Foggia punta a diventare socio di AMIU acquisendo il 30% delle quote. Un'operazione vantaggiosa per i cittadini ribadisce Mongeli. Una città più pulita, ancora più pulita, i servizi che funzionano meglio, una sinergia che rafforza anche servizi, in particolar modo della raccolta differenziata, una gestione ottimale dei nostri impianti.